Fino a questo momento non c'è nessun problema sulla riparazione effettuata e sulla condotta nel comune di Calatabiano. È chiaro ed evidente a tutti che più che un problema di condotta a questo punto diventa un problema del territorio perché la condotta rimane in condizioni di stabilità e non viene intaccata da nessun incedimento. Qual è lo stato dell'acquedotto di Fiume Freddo e qual è lo stato dei territori che ospitano l'acquedotto? Lo stato dell'acquedotto del Fiume Freddo lo vediamo anche partendo da Messina verso Catania che l'autostrada per esempio presenta diversi punti in frana che è stata chiusa una corsia in più punti. A monte di queste frane passa anche l'acquedotto quindi se la frana fosse stata per esempio più ampia lì avrebbe investito l'acquedotto e così come in tutto il territorio da Messina a Calatabiano, Fiume Freddo si verificano smottamenti e frane in tutto questo territorio per 59 km passa l'acquedotto del Fiume Freddo e predisponendo quindi una mappa di rischio e quindi una richiesta di intervento successivo per i consolidamenti necessari. Bypass Alcantara quanto potrebbe aiutare in caso di necessità? Chiaramente per le frane che si dovessero, o per i danni che si dovessero verificare prima del Comune di Forza d'Acolo verso Catania allora potrà essere di utilità il quattro si potrebbe attivare per portare circa 300 litri al secondo che sarebbero nei momenti di crisi in cui l'acqua manca certamente un sollievo per tutta la cittadinanza. Se si dovesse verificare frane a valle di Forza d'Acolo non avrebbe nessuna utilità. Fino ad oggi tra dispiegamento di forze, di mezzi e anche di interventi sul posto quanto ha speso l'AMAM per questa emergenza? È stato predisposto a un impegno di spesa di 50.000 euro oltre all'impresa che già aveva l'appalto della protezione del Fiume Freddo che sta intervenendo con i fondi che già erano disponibili sul capitolo.